Dal cratere alla ripartenza al PNRR per il territorio si è parlato del fondo complementare i numeri e progetti nel momento di approfondimento organizzato dalla fondazione Magna Carta di Gaetano Quaglieriello con diverse partnership relatori importanti per parlare di questa grande opportunità per il territorio. La fondazione ha presentato i esiti dei bandi next appennino a fronte di 615 milioni di euro resi disponibili sotto forma di agevolazioni su nuovi investimenti sono stati presentati 2.541 progetti di investimento per un valore di 2 miliardi 541 milioni di euro con la richiesta di un miliardo di euro di contributo. Le agevolazioni richieste provengono per poco meno dell'80% dal cratere 2016 e per poco più del 20% dal cratere 2009. Nei territori abruzzesi interessati al fondo complementare sono state presentate 686 domande per 790 milioni di euro con la richiesta di 474 milioni di contributi. Un ruolo rilevante nella formulazione delle proposte progettuali hanno avuto le grandi imprese presenti nel territorio dell'Aquila. Grande dinamicità nel settore del patrariato pubblico privato nel quale le 48 domande presentate in regione rappresentano un investimento di circa 110 milioni di euro per un ammontare di finanziamento richiesto pari a 108 milioni. Percentuali di richieste di finanziamento tra il 25 e il 30% del totale di richiesta di finanziamento si riscontrano anche per bandi riferiti a meri investimenti, ciclomaceri, progetti innovativi, avvio di imprese turistiche, sportive e culturali mentre risultati più bassi di partecipazione da parte dei territori abruzzesi si sono registrati nei bandi riferiti a economia sociale e cooperative di comunità, economia circolare, ciclo del legno. Presente per un saluto anche il sindaco Pierluigi Biondi. L'Abruzzo sicuramente avrà un beneficio dal PNRR. Bisogna continuare a lavorare, bisogna fare in modo di seguire anche poi l'assegnazione di questi soldi, siamo ancora alla presentazione delle domande e soprattutto che poi i progetti siano all'altezza delle domande, però noi sappiamo già da ora che ci sono la possibilità di 2.500 milioni che come si dice ora vengano messe a terra, cioè che i soldi previsti dal bando possano generare un investimento pari a questa cifra. Grazie. 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 Grazie.